Questa attività in acqua che è fantastica è rivolta a delle persone che hanno problematiche fisiche, posturali, non devono fare sforzi eccessivi. Faccio fare degli esercizi soprattutto per rinforzare la resistenza, la forza muscolare, benefici sia fisiologici che psicologici. La mobilità articolare, la postura, l'equilibrio psicologicamente diciamo che socializzano tantissimo, tanto che anche al di fuori della piscina si incontrano. In più aiuta questa attività anche in certe patologie tipo osteoporosi, pressione alta, colesterolo alto. Io lo consiglierei intanto a tutti e soprattutto a chi non può fare sforzi fisici sulla terraferma. Io la consiglio a tutti, ma a tutte le età.